Oggi, con il decreto del sitaco numero 42 del 12-7-2024, ho nomino l'aggiunta comunale. Giuro diretti e rivoluzioni con il gruppo e coscienza, per l'interesse del Tuneo e l'armonia di interessi della Repubblica e della Regione. L'anno 2024, il giorno 12 del mese di Lurica, con 7 della sala del Palazzo Municipale in arte al sitaco del Comune di Stato, Avvocato Walter Carogero Testato, che è in presenza del segretario generale, che redige il presente del contesto verbale, è compasso il signor Aiello Oscar, in atti generalizzato, nella qualità di assessore del Comune di Caltanissetta, giusta nomina sindacale numero 42 di dato di Erna, per prestare il giuramento a termine dell'articolo 15 secondo Roma, legge regionale 792, secondo la forma di rito, restritto l'articolo 45 di Centrofinamento autonome degli edilocali, perché si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto con sello. Grazie. 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 Doveroso ringraziamento al sindaco per la fiducia, anche doveroso ringraziamento ai confronti del mio partito. Io sono entrato in verso comune 15 anni fa, come calogero, ho fatto un giro in più, sono passati 15 anni e adesso mi trovo dall'altra parte. Ci teniamo anche a ringraziare tutte quelle persone che si sono spese per andare alla campagna elettorale, chi non ha avuto la fortuna e il privilegio di essere sceletto, di essere assessore, ma se siamo qua tutti noi, neanche grazie a chi non è stato eletto perché ci è stato per vero. Siamo pronti a lavorare e chiedo scusa per il ritardo nell'intediamento. Siamo pronti a lavorare insieme ai dirigenti che già un po' conosco e anche a chi un po' comparto, ho citato tutte le persone che si sono spese e che comunque non sono state elette. Quindi dobbiamo stare tutti inizie mancando la parte. Grazie ancora. Il mio sindaco, con l'avvenuto aggiornamento di tutti i pro-presideri nominati, è costituito migliore e il evento erano una carattro som pro-president. Grazie. 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 Grazie a tutti.